10 anni di esperienza a stretto contatto con gli addetti ai lavori, seguendo tutta la filiera musicale, per arrivare a raccontare con questo documentario le professionalità, l'impegno e i lavori che stanno dietro all'organizzazione di un festival di musica indipendente. Un documento che non vuole essere un esempio, ma uno stimolo per i giovani che intendono intraprendere questa avventura, dove cultura e lavoro creano la giusta miscela che ci consente di imparare il mestiere che amiamo.